Eccoci qua mattina con noi ancora insieme sono le 10 e 32 come sempre in diretta e allora torna a trovarci la scorsa settimana non abbiamo visto per dare spazio a Sanremo ci è mancato tantissimo c'è mancata la sua cucina totalmente gluten free allora do il bentornato al nostro amico Francesco favorito buongiorno Francesco ma buongiorno buongiorno a tutti i famosi telespettatori di Cusano di Poo meravigliosa televisione che bello quel poster dietro di te Francesco la dolce vita ma sai io sono un amante del cinema e ovviamente poi c'è un altro poster che amo molto che è la Ternana no? eh sì sai che abbiamo scoperto ieri non lo sapevo che San Valentino era Ternano certo certo infatti se ti ricordi che ho invitato al cioccolentino sì la mia manifestazione che abbiamo concluso ieri sera alle 19.30 e abbiamo fatto dal 10 al 14 questa manifestazione straordinaria dedicata al cioccolato e al San Valentino sì quindi tutta dedicata al cioccolato eh e San Valentino ovviamente ho fatto tantissimi show cooking e ovviamente dedicati al mondo dell'arte perché infatti non a caso ho portato un regista cinematografico di cui abbiamo parlato la bellezza della fotografia nel mondo del cioccolato sì poi abbiamo portato ovviamente grandi chef televisivi eh di cui eh sono tantissimi che hanno aderito alla mia proposta eh di venire e portare la loro arte ah ecco quindi arte arte e cucina si incontrano assolutamente sì questo è il mio obiettivo primario eh però ecco oggi dopo cinque giorni sono senza voce eh ma infatti ti vedo Francesco con la sciarpa copriti riguardati mi raccomando eh però insomma sarà stata sicuramente un successo una quattro giorni tutta dedicata al cioccolato e ai dolci senti ma bisogna andarci piano col cioccolato oppure in queste occasioni si può anche abbondare concedersi qualcosa di più tra l'altro sono chiaramente dolci lo ricordiamo tutti gluten free assolutamente sì perché il cioccolato è gluten free sì quindi è totalmente buono è totalmente per tutti ed è ovviamente abbiamo scoperto anche che nel mondo del cinema eh il primo che ha inserì il cioccolato all'interno dei suoi film fu Alfred Hitchcock ok dove sulla scena di Psycho eh mise come eh concetto la eh il cioccolato è invece il posto del sangue risolverà eh ovviamente questo questa scena qui allora abbiamo scoperto anche che sei un amante del cinema Francesco lo sai che eh qualche mese fa è stata nostra ospite Sandra Milo no? parlando di Pellini e della Dolce Vita quindi magari la prossima volta ti facciamo mandare un saluto se torna a trovarci eh onoradissimo una grande artice una grande un grande personaggio del cinema italiano quindi che ci ha fatto conoscere nel mondo un ratte anche a Federico Fellini ti piace il cinema di oggi Francesco? eh assolutamente sì ci sono degli ottimi attori e non sono ovviamente per il cine panettone perché maltrato che parliamo di dolci ma non sono per il cine panettone è un po' folle però ci sono bellissimi film e bellissimi attori bravissimi attori e nulla da ecce bene allora veniamo a noi caro Francesco che ci hai portato oggi? visto che parliamo di abbiamo parlato fino a ieri sera fino a 12 ore fa di cioccolato mi sono permesso di portarvi dei muffin eh con doppio cioccolato ah ovviamente quindi con eh ovviamente gluten free e lactose free e questo ci 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 permette di che è buono per tutti eh sì esattamente stiamo vedendo adesso gli ingredienti se splittiamo così eh ce li leggi? sì esattamente sono 250 rami di uova intera e 250 rami di burro morbido delatto sato 80 rami di cacao 150 rami di zucchero semolato 10 rami di baking power 500 rami di miscela mediterranea che la potete trovare eh presso anche il mio sito Francesco Maurito eh gluten free e poi eh il cioccolato in pasta a volontà evviva 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 quanto basta senti eh Francesco questa è miscela gluten free no? diciamo tu sei un pioniere in questo ma si può trovare anche nei supermercati? sicuramente sì sì si trova nei supermercati si trova ovviamente nel settore orega quindi negli hotel, ristoranti, nelle caffetterie si trova anche nel settore un'altra linea nel settore farmaceutico ma ovviamente eh è buona per tutti quindi la troviamo anche nei supermercati prossimamente in Alt'Italia la trovremo in un bel gruppo di supermercati molto famosi e questo ci rende orgogliosi perché significa che il nostro lavoro di questi ventotto anni dedicati al mondo del gluten free stanno arrivando i risultati eh sì e questo è chiaramente una grande soddisfazione allora andiamo a vedere la preparazione, i vari passi step by step? step by step esattamente andiamo a vedere ovviamente la prima ripresa che stiamo sciogliendo il burro direttamente con come vedete qui stavo San Valentino vedete cioccolentino si vede tutto? eh sì tutto rosso sì allora guarda andiamo piano piano così magari capisco anch'io chiediamo magari alla legge se ci mette pausa sull'ultimo frame noi prendiamo il burro burro lo andiamo a sciogliere vedo tanto burro però in questa sì 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 sono 250 grammi 250 grammi il burro è buono eh bisogna dirlo assolutamente sì e nello stesso tempo oltre che buono fa anche bene poi andiamo una volta a sciogliere il burro andiamo a metterci dentro la nostra il nostro prodotto quelle uova intere ok? e andiamo a maneggiare il tutto dopodiché andiamo a aggiungerci questa miscela che noi abbiamo preparato precedentemente ricca di ehm diciamo di cacao zucchero eccola qua eh baking power e ovviamente eh miscela eh miscela base eh mediterranea e ovviamente il zucchero maneggiamo il tutto eccolo qua è tutto pronto sì una volta mangiato lo andiamo ad inserire all'interno del sac a poche ecco qua una mette una remina vedete è semplicissimo scusa ma tu l'hai cotta questa questa miscela che abbiamo visto prima? no 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 è tutto è tutto morbido e proprio perché ho sciolto il burro lo andiamo ad inserire all'interno del pirottino in modo molto semplice lo faccio con il sac a poche poi colarremo al cioccolato la andiamo ad inserire adesso vedete la prossima immagine la andiamo ad inserire direttamente eccola qua andiamo ad inserire tutto all'interno al cuore vado in forno qua siamo cuocendo per 25 minuti a 180 gradi il prodotto vedete che c'è di dentro il cuore morbido sì e una volta è raffreddato e possiamo servirlo direttamente ai nostri amici eccolo qua il prodotto con il cuore morbido all'interno è tutto cioccolato questo diciamo sì perdonami è quel tortino famoso tortino al cioccolato che possiamo prendere al ristorante quando lo apri c'è quel cuore morbido di cioccolato no questo è più da passeggio è più da passeggio perché quello lì è il tortino del cuore morbido che hai detto tu lo troviamo tranquillamente in tutto il mondo il più grande produttore al mondo è italiano anche questo ti racconto questa chica quindi viene prodotto in Italia esatto ed è meraviglioso però quello viene servito caldo questo è un prodotto da passeggio infatti ieri abbiamo fatto un grandissimo un grandissimo diciamo successo con questi muffin d'occhio cioccolato abbiamo veramente sbancato specialmente abbiamo reso i bambini ma anche le mamme e anche i genitori e anche i papà quanti ne avete fatti di questi muffin Francesco? ma guarda come ho visto in diretta ne abbiamo fatti quasi mille mille? sì 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 ah ecco sì 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 al giorno ne facciamo quindi è stato veramente una cosa ieri straordinaria perché ieri San Valentino essendo che come hai detto tu pochi sanno che sta a Terni ma tutto ciò lo andiamo a creare ovviamente grazie al santo Terni non è soltanto città dell'acciaio ma è anche città dell'amore quindi San Valentino è il santo di Terni ma è santo di tutti gli innamorati in tutto il mondo oggi è vero che San Paussino che sarebbe il cosiddetto santo dei single la giornata dei single sì esattamente sì 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 quindi ecco e come è andato Simone Sanremo? non ti ho visto sul palco ancora ancora non mi hai visto sul palco hai ragione ci stiamo lavorando magari un giorno chi lo sa lo calcherò anch'io non so in quale vesti Gianni Morandi ha come dire ha spazzato ha pulito io mi accontenterei anche di fare quello giusto per dire io c'ero stato io ci sono io c'ero è stata una settimana intensa è piaciuto a tutti quanti non so se tu sei un amante di Sanremo e insomma abbiamo noi di Cusano abbiamo coperto per tutta la settimana questo straordinario della meravigliosa musica italiana uno è sempre deve essere amante poi dopo certo diventa diventa anche un discorso bello perché Amadeus è un grande un grande organizzatore quindi bisogna mettere anche questo e poi dopo ci stanno le solite polemiche che ovviamente fa parte anche questo di Sanremo chi lo fa sa benissimo che c'è questo tipo di polemica quindi basta un piccolo saluto a Valerio De Angeli che ci sta vedendo da Milano è il ragazzo che ti ho girato e che vorrebbe fare della pizza insieme a voi quindi sarebbe straordinario ma lo inviteremo sicuramente io ecco questa è stata una settimana molto impegnativa però mi ha detto Valerio si occupa di pizza e pane e questo ci rende molto felici perché noi amanti della pizza e del pane avremo modo di conoscerlo e magari ci spiegherà come è possibile realizzare a casa pizza e pane Francesco se sei d'accordo vediamo se ho capito io i passaggi li ripetiamo magari provo io a dirli e tu confermi se ho capito o no allora prendiamo il burro regia ecco qua lo mettiamo in questa io mi sbaglio sempre padella o pentola vedi è una pentola lo facciamo sciogliere quanto deve essere il fuoco molto lento questa è una piastra d'induzione quindi la mettiamo a 200 come piastra d'induzione e lo sciogliamo lentamente ok quindi il burro si è sciolto poi abbiamo 6 uova esattamente che sarebbero 250 grammi di uova 250 grammi li mettiamo insieme e chiaramente amalgamiamo il tutto amalgamiamo il tutto con la miscela che abbiamo precedentemente preparato e poi andiamo a colarlo all'interno del con il sac a poce all'interno dello stampo eccolo qua e la ricetta è molto semplice una leccatina con le dita si può dare durante questo processo perché no anche se poi suggerisco sempre di non farlo perché non non si fa bella figura ecco vabbè di nascosto dai il fondo è il fondo il fondo della padella poi andiamo in forno a 180 gradi per 25 minuti e il prodotto è pronto addirittura se lo mettiamo dentro il sacchetto di polipropilene il prodotto ci dura almeno una guindicina di giorni senza problemi ecco mettiamo in forno e voilà grazie senti se ne avanza qualcuno il giorno dopo lo possiamo riscaldare? assolutamente sì va sempre scaldato volendo oppure va mangiato freddo visto che è un prodotto da passeggio sì perfetto Francesco che ci porti la settimana prossima? la settimana prossima vorrei portarvi ovviamente quello che visto che è carnevale spero che martedì è l'ultimo giorno di carnevale ma ovviamente io stando a Milano la settimana prossima il carnevale ambrosiano è la settimana successiva quindi noi continueranno a friggere quindi vi porterò delle chiacchiere meravigliose ma anche in questo caso il rudentree e l'acto spring ok? eh certo e allora ti aspettiamo ti aspettiamo con ansia grazie a Francesco Favorito per essere stato con noi ti auguro buon lavoro so che sei sempre impegnatissimo quindi grazie per trovare il tempo di intervenire e spiegarci passo dopo passo come creare queste per me è un onore un onore a tutti i telespettatori e un caro saluto ciao Simone grazie a presto Francesco buon lavoro e allora parlavamo di San Valentino no? e c'è una coppia che ha segnato un record perché sono insieme da 70 anni parliamo andiamo a Foggia loro si chiamano Pasquale e Fortunata si sono conosciuti a 15 anni si sono sposati il 14 febbraio del 1953 e da allora non si sono mai lasciati eh arrivarci a a compiere 70 anni di di relazione vediamo grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti e ci vogliamo ancora più e andiamo a Capaccio Pestum perché fino al 15 marzo è possibile visitare la mostra 100 capolavori italiani del Rinascimento una mostra davvero imperdibile tutta dedicata all'arte italiana vediamo 100 capolavori del Rinascimento in mostra a Capaccio Pestum fino al 15 marzo presso l'ex tabacchificio Next un allestimento che rientra nel progetto denominato Le Mostre Impossibili da Raffaello a Botticelli passando per Caravaggio Leonardo Da Vinci e Michelangelo 33 artisti 33 artisti in un unico spazio espositivo una raccolta tematica di capolavori riprodotti in dimensioni reali in scala 1 a 1 ad altissima definizione e leggermente retroilluminati ideatore e direttore e direttore della mostra Renato Parascandolo con la direzione scientifica di Ferdinando Bologna il prestigioso storico dell'arte recentemente scomparso l'amministrazione Alfieri ha sposato questa iniziativa volta anche ad ampliare sempre più l'offerta culturale della città dei templi con l'auspicio di invogliare i visitatori dopo l'assaggio dell'opera d'arte nella sua riproducibilità digitale ad andare ad ammirare le opere nella propria sede originaria questa non vuole essere una concorrenza ai musei alle opere d'arte quelle originali assolutamente no però vuole essere un modo per avvicinare all'arte alla bellezza tema dell'esposizione a cura di Maria Teresa De Vito e Giovanna Lazzi la bellezza quella del sacro con la perfezione dell'iconografia religiosa nella pittura l'umana bellezza rappresentata dalla scintilla divina nell'essere umano e capolavori a confronto che vede grandi artisti alle prese con soggetti analoghi Doskoeschi diceva che la bellezza salverà il mondo probabilmente non è sufficiente ma la bellezza può fare tantissimo la bellezza può suscitare soltanto uno stato d'animo positivo che serve a tutti noi il progetto di allestimento è di Giovanna Parascandolo e il corredo di Dascalico è particolarmente curato i visitatori possono disporre di una ricchissima audio-video guida consultabile direttamente sul proprio smartphone semplicemente inquadrando il QR code posto all'ingresso insomma una mostra dove sarà possibile vedere le opere bellissime di Giotto Caravaggio Cimambù Botticelli Raffaello Michelangelo e non solo continuo a parlare di spettacolo una figura che in realtà ha fatto epoca Lidia Poet la prima avvocata d'Italia un personaggio contemporaneo anticonformista una donna che ha fatto la storia del femminismo interpretarla una bravissima attrice Matilda De Angelis la serie ributta proprio oggi su Netflix vediamo ciao oh ciao quando ti ho vista iscritta all'ordine non ci volevo credere il mondo cambia in fretta sono tre mesi che ho l'abilitazione ora ho anche un caso importante che dire fata volente stucut un omicidio del Dengen niente di meglio che iniziare la carriera con un disastro il tuo curatore ti farà pezzi va bene Enrico ti ringrazio anche tu mi sei mancato ah salutami tua moglie tua figlia se non si sono ancora ammazzate comunque se hai bisogno di una mano chiedi fai pur sempre parte della famiglia Poet non faccia brutte figure avvocato Poet si Poet Lidia e allora questa serie tv ha un'ambientazione ottocentesca però i temi sono di grande attualità ecco come si sono conciliate come si conciliano queste due cose nella nella regia è vero nel senso che avevo la sensazione forte che questo personaggio pur essendo vissuto diciamo fino alla prima metà del novecento ma la parte come il cuore della sua vita in senso anche proprio tematico è stato alla fine dell'ottocento avevo la sensazione che la battaglia che un po' volontariamente un po' involontariamente Lidia avesse seguito nella realtà fosse proprio molto forte e risuonasse molto sul contemporaneo una serie secondo me molto attuale nel raccontare una condizione femminile non pacificata se vogliamo e quindi ho cercato proprio con la regia e con il racconto di fornire a Matilda in primis e poi a tutti gli attori degli strumenti dei luoghi un ritmo un linguaggio che permettesse di far sentire come poi questo era un personaggio appunto che ci raccontava tanto del presente proprio per questa sfumatura che poi abbiamo costruito insieme cioè farla muovere come se fosse una di noi trasferita in quel tempo e che quindi come noi si meraviglia di tante cose che oggi ci sembrano strane ma come tante altre oggi sembrano normali ma in realtà fra un po' di anni ci sembreranno probabilmente strane ecco Matilda il punto di partenza è una persona vera un personaggio realmente esistito però c'è anche tanta immaginazione e fantasia nella costruzione poi delle caratteristiche della vita di questo personaggio ecco che cosa ci ha portato lei di suo e come l'ha interpretata? di mio fondamentalmente la faccia la voce quasi tutto però no a parte gli scherzi diciamo che la storia di Lidia Poeta Lidia Poeta adesso si è aperto questo dibattito è un pretesto per raccontare una grande storia di una donna che voleva e sognava fortemente di poter diventare un'avvocata e che a un certo punto ce la fa molti molti moltissimi anni dopo ma ce la fa e quindi è la storia è una storia di resilienza di forza di coraggio di determinazione per cui diciamo il pretesto di raccontare cioè l'idea nata sicuramente agli sceneggiatori essendo incappati in un personaggio così meraviglioso che così storicamente è realmente esistito e probabilmente questa cosa ha solleticato un po' la loro fantasia io sicuramente ho cercato di portare un'ironia una modernità che forse fa parte anche della mia di persona che che potesse avvicinare il più possibile questo personaggio a un pubblico il più ampio possibile e che magari che magari potesse a sua volta solleticare la fantasia di qualcun altro per andare ad approfondire a studiare meglio questo personaggio ecco lei interpreta un personaggio che in realtà di finzione come si rapporta con una un personaggio così forte come quello interpretato da Matilda come la Lidia Poet ecco come si può vedere come si può già notare dal primo episodio io butto benzina su questo fuoco che noto dall'inizio essere un fuoco che arderà per sempre io e suo fratello e tutte le persone intorno a lei vedono una determinazione particolare una determinazione molto molto vive molto forte e e io e lei facciamo comunella perché oltre come dire un sottosuolo romantico che ci porterà poi per tutta la serie c'è anche una questione di comodità nel senso che lei attinge alle notizie e io posso diciamo posso rubare qualche scoop quindi ci seguiamo e ci inseguiamo qual è il pubblico che si aspetta segua questa storia ma io mi aspetto un pubblico che ha voglia di vedere una serie insomma divertente esplosiva in qualche modo anche popolare perché devo dire popolare nel senso alto del termine cioè non ho avuto nessuna remora a utilizzare un codice di racconto il più largo possibile proprio perché avevo voglia che un personaggio con un tema risuonante così forte fosse messo a disposizione di un pubblico più largo possibile e in questo senso Netflix è una piattaforma molto affascinante perché insomma ha una grande audience e quindi permette a queste storie e anche a questi personaggi di incontrare speriamo il pubblico più largo possibile e nel cast abbiamo anche visto Edoardo Scarpetta giovane attore veramente bravo ormai si è fatto conoscere per dei progetti molto interessanti in cui ha davvero dimostrato di essere un bravissimo attore ultima serie le fate ignoranti tratta appunto ora il film di ospite e quindi un grandissimo cast per una serie imperdibile la legge di Lidia poi è arrivata ci vediamo tra pochissimo sono molto felice tra qualche minuto dare il buongiorno Anna De Rinaldi di attra poco